Allora John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video Oggi la notizia di quelle ufficiali, quindi possiamo parlare come una certezza perché è fatta, c'è stata già la presentazione Mi lascia un po' basito se posso essere sincero, non ne capisco il senso, anzi faccio fatica proprio ad arrivarci Però devo dire anche che tutte le operazioni che i partenopei hanno messo in tavola negli ultimi 6, 7, 8 mesi Da quando hanno iniziato questo progetto di rivoluzione, insomma, ha portato lati positivi al Napoli Perché quando ha preso Cavarraschale per sostituire Insigne si è detto subito Ma perché? Non è così tanto esperto, forse non è pronto, eccetera Quando ha preso Kim per Koulibaly, tutti hanno detto Kim? Ma chi è questo? E Koulibaly insomma era uno dei migliori difensori centrali del mondo, ha tratti il migliore del mondo Quando hanno preso Raspadori per cedere Mertens, quasi tutti insomma si sono lamentati Dicendo tu perdi un calciatore, un trequartista, un fantasista, uno che è entrato nella storia del Napoli Per poi effettivamente, oggettivamente andare a prendere un giocatore che ancora non è entrato nei meccanismi di una big Allora la domanda prima di tutto che viene da farsi è Ma non è che invece noi siamo tutti dei coglioni e il Napoli ha ragione? Probabilmente oggi è così perché il Napoli ha 50 punti in classifica E la seconda ne ha 12 in meno, quindi se c'è una squadra che sta avendo ragione E in fase di mercato, e in fase di formazione, e in fase di scelte di cambio generazionale È sempre il Napoli Però oggi arriva una notizia che insomma mi fa alquanto strano E cioè che il Napoli ha scelto di scambiare, sotto diversi punti di vista Il suo Sirigu con Gollini Prendendolo in prestito con un diritto di riscatto basso Perché insomma è 8 milioni di euro Quindi è una cifra relativamente bassa Fattibile che si può spendere qualora il Napoli decidesse di riscattarlo Ma ha preso Gollini come secondo portiere Ora, da una parte, oggettivamente, il Napoli riesce a prendere Sirigu Parametro 0 Lo va a scambiare poi con Gollini Un prestito con Gollini Anche se poi Gollini non era della Fiorentina Non era di proprietà della Fiorentina La Fiorentina non avrebbe riscattato Gollini Quindi Gollini è tornato a casa base Quindi all'Atalanta Per poi essere girato al Napoli Nella speranza dell'Atalanta Che il Napoli decida di riscattarlo E quindi non glielo rimandi a casa Però comunque lo scambio si è fatto Ora, dovessi andare a tirare due somme E dovessi dire il Napoli perde Sirigu Che comunque non giocava Per prendere Gollini Che comunque non giocherà Ma che c'ha dieci anni di meno Che c'ha ancora la possibilità di riprendersi e tutto quanto Da una parte il Napoli Mi sento di dire ha fatto anche la mossa giusta Dall'altra parte però Nutro dei dubbi in merito Quali sono i dubbi? Io credo che una squadra Poi vi ripeto, magari tra qui a un anno Diremo, eh, sono un coglione anche in questo caso Perché ovviamente abbiamo mal giudicato quasi tutte le trattative del Napoli Diciamo le uniche che abbiamo Almeno su questo canale condiviso Sono state in Dombele per Fabian Ruiz E poi vicino Simeone per Petagna Simeone per Petagna Ve la cito tranquillamente E poi magari vicino Poco altro L'arrivo di Olivera a sinistra Perché sì, faceva comodo Olivera a sinistra Insomma, qualche Qualcuna di queste è stata fatta Qualche operazione di queste qui È stata portata a termine Però comunque La maggior parte delle operazioni Fatte dal Dal Napoli Insomma, le abbiamo sempre criticate E è più o meno Gollini Potresti prendere il gatto per favore? Cioè, nel senso Più o meno Gollini È una di queste Dai, dai, levalo Ma mia gatto Allora, stavo dicendo E Gollini è una di queste Nel senso che In come io mi immagino La costruzione di una squadra Io mi immagino che tu prendi Un portiere titolare Che è o esperto O è in rampa di lancio E un vice Che o è un giovane In rampa di lancio O è un esperto Però solitamente le due cose Non vanno a Non sono le stesse Nel senso Il Milano prende Maignan Che è un giovane portiere fortissimo Come vice Prende da Rosano Che comunque è un esperto Qualora mancasse Maignan E da da Rosano E faccio anche l'esempio della Roma La Roma prende Rui Patrizio Che è un portiere Molto esperto Quindi è il contrario Come vice Prende Svilar Che fa schifo Però prende Svilar Che è un giovanissimo Portiere serbo Che potrebbe essere Il futuro Spero di no Mi auguro di no Di Rui Patrizio Quindi Solitamente Agisce sempre con questo Modus operandi Guardate anche l'Inter O'Nana Che è un giovane portiere Buono Forte In rampa di lancio Il secondo è esperto Solitamente comunque È vero che tu non stia ancora Nella parte dietro del ciclo Quindi Rui Patrizio Ma sei più avanti Il modus operandi È questo Portiere Giovane All'impero della carriera Come primo E vecchio Come secondo E poi di solito Anche vecchissimo Quarantenne Come terzo Che magari è uomo Spogliatoio L'operazione Che fa il Napoli Oggi è un'operazione Strana Perché il Napoli Come primo portiere È un portiere Buono Giovane In rampa di lancio Che si sta Affermando E confermando In questa stagione Dopo gli errori Dello scorso anno Quindi Meret Alex Meret Come vice portiere Per me Siricu Era perfetto Sia a livello Di spogliatoio Sia a livello Di tranquillità Io penso che Insomma Se Siricu Se Meret Non fosse stato A disposizione Siricu Insomma Sarebbe stato Sempre pronto A subentrare E invece Siricu Va La fiorentina E ora ne parliamo E il Napoli Prende Gollini Ora Premessa che io Gollini L'ho anche conosciuto Dal vivo Di persona Quindi insomma Poi Mi è sembrata Sempre una persona Abbastanza squisita Tranquilla Con via di per terra E tutto quanto Come primo portiere Il Napoli Io faccio fatica A vederlo Come secondo portiere Ci può anche stare Sebbene credo che Si sia un pochino Giocato La possibilità Di esplodere Quando Il suo cartellino Il suo valore È stato nettamente Sopravvalutato Da tanta Troppa gente Che lo vedeva Nuovo buffon Nei primi anni Di carriera Ad alti livelli E pensare Che il Napoli Debba avere Meret e Gollini Che sono comunque I due coportieri Perché io Gollini Magari posso anche Provare a vederlo Come secondo Ma non credo Che lui abbia voglia Di essere un secondo Cioè A 20 Quanti anni Ha 6 27 28 anni Cioè tu comunque Da portiere Io penso che Gollini può giocare Come portiere Magari la Fiorentina Magari la Fiorentina No perché Non ha preso il posto Però insomma Tra Spezia C'ha Drongoski Torino C'ha C'ha Milinkovic Savic L'Udinese Ha preso Ha preso Montipò Montipò Al tempo Portieri Che non sembravano Di livello E che pure Sono riusciti a prendere La titolarità Di squadre Medio Piccole Medie Per quanto riguarda Il Torino E l'Udinese Piccole Se si parla Dello Spezia Però hanno preso Questa titolarità Che era importante Da prendere Ecco io credo Che Gollini Avrebbe potuto Prendere la titolarità Cosa che Secondo me A Napoli Non farà E non capisco Perché il Napoli Abbia preso Due portieri Giovani Diciamo Comunque In pieno Della carriera Come primo E come secondo Che non è sempre Un vantaggio Perché qualcuno dice Beh io preferisco Avere Che ne so Due portieri Come Magnanne O Nana Che uno Come Magnanne E uno Come Andanovic Ok Io non lo so Perché comunque Poi lì subentrano Delle gerarchie Magari Gollini Vorrà Da qui a fine stagione Ritagliarsi anche Un piccolo spazio Provare a giocare Ha un riscatto Di 8 milioni Il Napoli Non regalerà 8 milioni All'Atalanta Così perché Gollini Rappa bene Sicuramente Gollini Rappa bene Visto che le canzoni Rappa le ha fatte Ma qua si parla di calcio E nessuno pagherà 8 milioni Per sentirlo rappare Quindi boh Non lo so Dall'altra parte Non capisco manco La mossa Della Fiorentina Cioè Ok Ok Che Gollini T'ha deluso Perché pronti via Questo è stato l'anno Dei secondi portieri È partito Andanovic È arrivato Onana È partito Luis Maxime E' arrivato Provedel Alla Fiorentina Dove essere Gollini Il titolare Dopo due settimane Giocava Terracciano Però tu hai comunque Promosso a primo Terracciano Che ci sta Eh ragazzi Quando Terracciano gioca Para le madonne Perché dobbiamo escludere Terracciano dalla Fiorentina Se para le madonne Solo perché C'ha un'età elevata Eh ma Chi se ne frega Il portiere deve parare Non è che deve essere Un giovane Probante Non ce ne frega nulla L'importante è che Pari Però tu come vice Avevi i gollini Che quindi insomma Ti dava anche Una possibilità Di Di porta Sul futuro Per quest'anno Non t'ha convinto Pensi non t'abbia convinto Va bene Magari di avere preso Un altro giovane portiere Mezzo sconosciuto Eh Dal campionato Catariota Per cercare Di portare Magari In In terra Giliata Un portiere Che potesse Essere in qualche modo Il futuro Della Fiorentina Tu prendi Sirigu Come secondo Di Terracciano Quindi c'è due portieri Che in due Fanno Cent'anni Per gamba E personalmente È una mossa Che non ho capito Cioè vi ripeto Scambiare il portiere giovane Col portiere esperto Uno ha già un portiere giovane E un altro ha già un portiere esperto Per fare Invece che uno giovane Un esperto Un giovane Un esperto Due giovani Da una parte Giovani per modo Di In pieno della carriera E due esperti dall'altra Personalmente non lo comprendo Poi chiaramente Tra le due Il Napoli Secondo me Fa l'affare migliore Perché insomma Vivi di Sirigu Preso a zero Adesso ha i gollini Ci mancherebbe altro Visto che tanto Il Napoli Ha fatto rivalutare tutti Veramente il Napoli Prende me E mi rivaluta Probabilmente Potrebbe anche riuscire A farlo con gollini Però io oggi Alle spalle di Meret Che comunque È un portiere Che a inizio Non mi dava poche garanzie Ma che adesso Me ne dà tante E mi ha dimostrato Di poter essere Un portiere davvero titolare Forse ci avrei visto Più un portiere esperto Cioè per la Coppa Per quelle situazioni là Ci avrei visto Più un portiere esperto Come poteva essere Sirigu E tanti altri Esperti portieri Del nostro campionato O semplicemente italiani Il Napoli Ha preso questa scelta Io al Napoli Non do un'insufficienza Gli do un 6 e mezzo Che comunque ci sta Qualcuno la vedrà Come un capolavoro Io penso che il Napoli Se vorrà andavanti Con Meret Come secondo Comunque dovrà Prendere un profilo Alla Sirigu C'è uno dei miei portieri esperti Che fa anche spoglione Che sta in panchino E non rompe il cazzo Perché accadrà A un certo punto Gollini inizierà Anche a stufare A chiedere di giocare Perché insomma È Gollini Non è Non è Non è un portiere Che la sua carriera Come poteva essere Sirigu L'ha fatta Cioè non hai preso Un Etrit Berisha Per dirti Quindi probabilmente Un pochino potrebbe Anche condizionare Le dinamiche Dello spogliatoio Dall'altra parte Alla Fiorentina Che do Alla Fiorentina Do un 5 Cioè non capisco Vi dico la verità Comunque Terracciano Rimarrà il portiere Anche perché Terracciano Para Cioè da domani Decidesse Ma beh Da oggi mettiamo Sirigu Ok ma tanto Terracciano parava Cioè hai cambiato Metti in panchina Un portiere 33 anni Cantanici a Terracciano Per metterci in capo Uno 37enne Quando tranquillamente Potevi tenere Quello 33enne Cioè non ti cambia nulla Ai fini della Prospettiva Della tua squadra Quindi personalmente Non l'avrei fatta Come mossa Però comunque Hanno scelto di farla Ne parliamo perché È una delle poche mosse Fatte quest'anno In questo calciomercato Smorto Noioso Dove il Napoli È forse l'unica Che si è mossa realmente Prendendo Beresischi E adesso Collini È una mossa intelligente Però comunque Non lo so C'è sempre quel Senso di amaro In bocca Che mi rimane E che vado a giudicare Così Anche perché Credo Poi gli amici napoletani Mi aiuteranno da casa Mi diranno la propria Anche gli amici della Fiorentina O anche Quelli che non tifano Nessuna delle due Ma hanno un punto di vista Sulla questione Io credo che l'anno prossimo Il Napoli confermerà Meret Ma andrà a prendere Comunque un vice portiere Non terrà Collini Perché non pagherà mai Dei laurenti 8 milioni per un vice E credo che la Fiorentina Andrà a prendere Un portiere Non confermerà mai Terraciano come primo E Sirico come secondo Viceversa Cioè qui Nessuna mossa Per tamponare Inutile Quando secondo me Potevano ognuno Tenersi i propri portieri Da qui a fine anno E stop Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale Buonasera Lalla Ciao